E' per te. Alice, ti va di fidanzarti con me? Ormai ci siamo! Oggi è il grande giorno, dopo mesi, dopo anni, dopo... No, anni, anni no, anni no, però dopo tanto tempo, oggi è arrivato il fantastico giorno. Il giorno in cui farò la proposta di matrimonio... No, non è bello, è matrimonio... Oh, 17... Ma di fidanzamento alla mia crush. Signori, ma prima di iniziare vi ricordo che presto ci saranno i provini per i Notorious Legion, finalmente The Esports in Italy. Per maggiori informazioni seguite Crazy-Mad e Notorious-Legion su Instagram, che là vi annunceremo quando ci saranno le date dei provini e tutto. Signori, let's go! Ehi, ciao! Lo sapevi che trovando il lama segreto verrai salutato nel prossimo video? In questo video saluto Massi, per aver trovato il lama, ed Exidibra, per essersi abbonato al canale. Grazie mille, brother! Abbonate anche tu al canale, oppure trova il lama segreto nella descrizione. Buona visione! No, 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 aspera, buona continuazione! Ok, ho appena deciso uno e ce n'è qua un altro, ma che cos'è? Vabbè, comunque sia, raga, cosa andremo a fare oggi? Ve lo spiego subito! Perché sapete comunque ogni volta che io, diciamo, faccio un prank, sbarra, qualcosa di questo tipo, faccio sempre una bella partita su Fortnite, dove vi spiego quello che andremo a fare oggi. Sostanzialmente tra poco verrà Alice, la mia crush, e gli proporrò di fidanzarci, raga. Speriamo che accetti, comunque sia, restate attivi, perché guardate il video, soprattutto fino alla fine, perché sicuramente ne vedrete delle belle. Ah, sto regalando questo piccone qua, il piccone Minty, a un sacco di voi, addirittura già ne ho regalati tre, quindi 90 euro di piccone, due a due miei sponsor. E uno a uno che mi supporta come creatore, quindi supportatemi anche voi, CrazyMed, nel negozio oggetti, supportatemi come creatore, che, diciamo, avrete la possibilità di avere un piccone Minty. Inviatemi lo screen su Instagram. Raga, inoltre, presto ci saranno i provini per gli NLE, quindi seguite Notorious-Legion su Instagram e Crazy-Med su Instagram. Provateci, raga, perché davvero i Notorious sono un team troppo, troppo bello, ed è una realtà bellissima che in Italia, davvero, non si vede spesso. Comunque sia, tra circa cinque minuti verrà Alice, quindi non vedo l'ora, raga. Io dovrò fare finta di non... cioè, devo essere davvero naturale, raga, perché se mi scopre, raga, io potrei rischiare tutto. Guardalo, guardalo, guardalo come vuole interrompermi. E ci crepi, Gio, e ci crepi. Notorious-Legion, by the way, zio, by the way. Ma che significa, by the way, raga? Lo sento dire a quelli che si vanno andando, quindi, by the way, eh. Va bene, il dubbio, join to the Legion, raga. Ma come... com'è entrato? Oh, zio, questo colpo da maestro si chiama. Mamma mia, che fight, raga. Perciò, dove eravamo? Lei starà per arrivare adesso. Volevo fare una cosa molto particolare, in realtà. Volevo farla incontrare con mia madre. Però ho detto, mmm, non lo so qual è la scusa. Comunque sia lei, mia madre la conosce, quindi non è che non la conosce. Però, raga, è troppo rischioso. Prima voglio fargli questa proposta. Vediamo che dice. Chat, prima di iniziare, voglio sentirvi dire il pronostico. Secondo voi, che succederà? Hashtag pronostico. A, mi darà uno schiaffo. B, se ne andrà. C, accetterà. Chat, voglio sentire questo pronostico. Mi raccomando. Per uccidere... Per uccidere questi... Per uccidere questi mostri! Io li odio, io li odio, io odio gli izzi. Io odio gli zombie! Ok, raga, ho preparato tutto. Lei già ha suonato. Per ora sta salendo le scale. Tra pochi minuti, tra pochi secondi o meglio, sarà qua. Io ho già preparato tutto, raga. Questo è un anello d'oro. Boh, vabbè. Cioè, lo spacerò per oro, tanto ormai io... Lo sapete come faccio, raga? Eccolo qua. Insomma, non si metta a fuoco questa fotocamera. Ciao, ciao. In posto? Sì, 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 sì. No, stavo registrando... Com'è? Tutto bene? Sì. Ascolta, ti volevo parlare. Prendi la sedia, prendi la sedia. Manco per starti nel letto. Chiamo. No, stavolta sono serio. Io te lo sto dicendo. Già te l'ho detto... Stavolta sono serio. No, no, sono... Sono serio stavolta. Sono minchata. Stavolta sono serio. Allora, ti volevo dire... Allora, ormai basta scherzare, nel senso... Lo sai ormai come va la situazione. Allora, è da tanto ormai che ci sentiamo, ok? E io ti voglio nel mio futuro. Perché, Pini? Allora, basta. Cioè, lo so che ti sembra uno scherzo, magari... Ah, intanto perché ci sono le luci accese. Numero uno. Numero due, perché quando parli con me guardi lì? No, perché non riesco a guardarti negli occhi. Comunque, se vuoi, le spengo le luci. Cioè, era perché stavo registrando comunque sia prima. No, 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 non l'hai recattivata. Anche perché lo vedi che non c'è un qualcosa, tipo... Sei una minchiotta, io minco. No, 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 non è una cavolata. Allora, io penso di amarti. No, è vero. Cioè, te lo giuro. Io ti amo. Cioè, ti ho fatto lo scherzo del bambino un'altra volta. Però, no, no, stavolta sono serio. Ti voglio nel mio futuro, veramente. A me sembra che stai scherzo, non ci credo. Ma non so, cioè, allora, non voglio sentire la tua rossa, però ho capito che tu per me vali tanto, tanto, tanto. Ma perché non mi prendi per sé? Ma non mi prendi mai per sé? Ma mi hai fatto amore di scarsi? Può essere mai che credo in una cosa del genere? Ok, sì, lo so che ti piace, però me lo dici così. Non ci pensiamo più, baciami. Sa, finiscila. Dai, perché non mi vuoi baciare? Ma ti per... Cioè, non l'ho accesa la foto. Baciami, dai. Sa, finiscila. Baciami, baciami. Salvo. Baciami. Ma perché? Allora, baciami, dai. Ma perché? Perché? Ma non mi vuoi baciare? No, a me sembra uno scherzo. Non è uno scherzo, veramente. No, perché magari poi la prendo sul serio e poi mi dice... No, 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 no. Non voglio giocare con i tuoi. Io provo qualcosa di forte per te, ok? Allora, allora, facciamo così, facciamo così. Cosa devo fare per dimostrartelo? Te l'ho detto per l'altra volta, facciamo un bambino, ma tu... Ah! no 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 scherzo non ci credo allora allora te lo dico più seriamente tu mi attrai sessualmente SALVA ma non so allora ma se sei bella carina che ci posso fare io ma io lo sapevo che ero una minchiana non era una minchiana ascolta guarda a me guarda questo te lo butto là non sto scherzo basta non è uno scherzo Le luci accese Che guardi lì No, non guardo là perché Allora, mi giro, mi giro Allora, ho una cosa per te Diamo di un'altra cosa E' per te Dai, io non scazzo, vai Allora, ah, non ci credi neanche Ma sei serio? Dai, salvo, la smetti Questo è per te E te lo dico qua Dai, non ci credi Non ci credi Allora, sono oggi qua Che ti voglio fare una proposta Sì, dai, andiamo alla forza dove dice uno scherzo No, non è uno scherzo Io ti voglio fare una proposta E sono qua in ginocchio a chiederti Ti voglio fare questa proposta Appena una minchiata, io mi incazzo Allora Che mamma mia o come me ne voglio? Ah, me lo metto io Ah, lo vedi? Fai il credito No, non è Allora, ascolta Oh, mi è costato 100 euro sto cosa No, vabbè, non si dice il prezzo Sì, non è una minchiata Bambino, eh, ti estraggo tessualmente E poi la nana È scontato No, no, allora, no Tu mi entrai davvero Però Però No, ti ammettere con queste minchiate Allora, oggi Io Crazy Mad Salvatore Sardo Qui in persona Sono qui per farti una proposta E non è la proposta di matrimonio Ma è un altro tipo di proposta Vieni qua Alzati Dammi la tua mano Basta Dammi la tua mano Ma perché? Ma perché? Non è uno scherzo Allora Tu Alice Ma perché non mi... Allora, facciamo così Ti va di... Ti va di... Tu Alice Ti va di... Non è uno scherzo Io te lo dico seriamente Allora Ti faccio la proposta per il pro Alice Ti va di fidanzarti con me? Salvo Ok raga Vi volevo parlare Proprio qualche secondo Per spiegarvi il tutto Questo come ben vedete È il mio team Notorious Legion Ormai lo sapete E ben presto ci saranno i provini ufficiali È un'opportunità Per tutti voi Raga Non sto scherzando Il team Ha sponsor Monster Trust E Predator Comunque sia Per gli eventi Raga È un team assolutamente ufficiale Guardate qua Polsino Monster Che mi hanno dato Raga è un'opportunità per tutti voi Probabilmente a partire da gennaio Metterò un Frigo Monster Qua dietro Non è sicuro Raga È un'opportunità per tutti voi Ben presto ci saranno i provini Ok Per maggiori informazioni Instagram Mio E di Notorious Legion Ormai Ve l'ho già detto Mi raccomando Allenatevi E soprattutto Tenetevi pronti Perché nella mia città Comunque sia Arrivano Del Uno show Insomma Un qualcosa di epico Che raga Non posso ancora spoilerare Vorrei Ma non posso ancora Quindi Preparatevi Perché Da ora in poi Ci saranno tante tante novità Col team Essenza Quindi raga Conto su di voi E mi raccomando Join to the Legion E mi raccomando